Il momento di emozione per gli abitanti di Accara, la capitale del Ghana. Il segretario del Commonwealth, Mr. Duncan Sandys, porta la notizia che la regina Elisabetta d'Inghilterra visiterà il paese. Questa visita corso il rischio di essere rinviata sin e via in seguito agli incidenti verificatisi in tutta la regione. Ma l'insistenza del popolo e le garanzie fornite dal governo locale hanno vinto ogni incertezza. All'aeroporto di Londra però la nebbia, che non conosce le vie diplomatiche, costringe la regina a rinviare, sia pure per un'ora soltanto, la partenza per il contrastato viaggio.